buongiorno a tutti oggi ci troviamo a varazze in via recagno vogliamo presentarvi un appartamento di 85 metri quadri comodo ai servizi ai negozi e a soli 400 metri dal mare una volta entrati ci troviamo nell'ingresso a corridoio alla mia destra abbiamo la zona giorno mentre alla mia sinistra la zona notte venite con me che iniziamo a guardare la zona giorno qui ci troviamo nella cucina proseguendo ci troviamo nel soggiorno dove si trova l'accesso alla balconata con vista su varazze e sul mare proseguendo nella zona notte troviamo una camera da letto matrimoniale una cameretta dove si trova l'accesso alla seconda balconata e infine il bagno finestrato per maggiori informazioni contattaci allo 019 90 373 oppure visita il nostro sito www.agenziaitaliani.com ci vediamo al prossimo video